Abbiamo parlato del pensiero di Sant'Agostino sotto diversi punti di vista, abbiamo visto le confessioni, abbiamo visto cosa pensa sulla grazia, su Dio, sulla libertà dell'uomo, sul male, ma non abbiamo ancora parlato, almeno nei video, della città di Dio, una delle opere principali di Agostino che è importante anche perché per la prima volta nel corso della storia, della filosofia, introduce, sembra quasi un gioco di parole, una prima filosofia della storia. Oggi vediamo di cosa si tratta, cominciando subito dopo la sigla, andiamo a cominciare. Un sorso di caffè nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare, che è la frase che come avete sentito pronuncio sempre obbligatoriamente in apertura di ogni video, con me ci sono anche loro a rappresentare obbligatoriamente in apertura di ogni video, topolino, tostoi, batman, d'andrea, il mostro peroso, il cuscino e poi quest'altro mostriciatolo qui. E poi ovviamente dovrò anche presentarmi anch'io. Mi chiamo Armando Ferretti, qui su internet uso spesso il nickname di Scrip e sono un insegnante di storia e filosofia, insegno in un liceo scientifico ormai da parecchi anni. E però da 2020 ho anche iniziato, oltre all'attività classica in classe, quella tradizionale, a realizzare video spiegazioni qui su YouTube di storia di filosofia ed educazione civica. Più ci sono anche di podcast, ci sono anche tante altre iniziative, se guardate già in descrizione a questo video trovate una guida per orientarvi, relative sempre alla storia della filosofia, pensate inizialmente soprattutto per i ragazzi delle superiori. Ma ormai vedo usate all'università ampissimamente, usate dai curiosi che vogliono semplicemente approfondire, riscoprire certe discipline. E poi appunto oltre ai video più, diciamo, da programma tradizionale ci sono anche approfondimenti, ci sono anche libri, ci sono tante tante cose che per chi è curioso possono fornire, spero, degli stimoli intriganti, interessanti. Oggi parliamo di un autore che si fa anche ai superiori, si fa ovviamente all'università e si fa non solo in filosofia, perché Sant'Agostino, Agostino di Ippona, è uno dei personaggi più importanti della nostra storia culturale in generale. Santo cristiano, padre della chiesa, forse il più importante dal punto di vista filosofico e teologico tra i primi pensatori cristiani, anzi senza forse, sicuramente il più importante, è un personaggio che però ha influito pesantissimamente non solo sul cristianesimo, anche ovviamente sul cristianesimo, ma anche su tutta la cultura europea, su tutta la cultura occidentale, mi verrebbe da dire. In fondo, come vedremo anche oggi, proprio citando La città di Dio, quest'opera ha influito non solo sulla cultura appunto cristiana, ma anche su quella laica. Se, quando si fa la filosofia dell'Ottocento, cioè di due secoli fa, intendo, si parla di Hegel, si parla di Marx, ecco, con Marx siamo molto lontani sicuramente dalla religiosità di Agostino, siamo davanti a un materialismo contro una filosofia altamente spirituale come quella di Agostino, ebbene, nonostante questo, in Marx si possono trovare alcuni echi di queste riflessioni sulla storia di Agostino, perché li si trova in Hegel e poi Hegel ha in qualche misura influenzato anche Marx. Insomma, capite che siamo davanti a un personaggio di tutto rilevo. Parliamo allora di quest'opera che si chiama La città di Dio, un'opera che nasce da una questione in parte anche contingente. Cioè, cosa succede? Partiamo dal 410 d.C., siamo verso la fine, la crisi dell'impero romano, d'Occidente in generale dell'impero romano. In descrizione vi lascio anche un link storico per inquadrare questo periodo, perché l'abbiamo affrontato anche in storia, e quindi se volete ampliare un po' la visione rispetto a quello che poco dirò qui, per fare una sintesi, là trovate l'argomento in maniera più estesa. Cosa succede nel V secolo? Nel V secolo la crisi dell'impero romano, che è cominciata già dal secolo precedente abbondantemente, inizia a diventare sempre più evidente, sempre più grave, sempre più problematica, perché iniziano quelle che una volta si chiamavano le invasioni barbariche e che oggi invece più spesso si chiamano migrazioni barbariche o in altro modo, perché popoli, tribù provenienti dall'est Europa o da altre zone ancora più orientali dell'Asia iniziano a premere sui confini dell'impero, non solo premere, ma anche penetrare dentro ai confini dell'impero, lasciando a volte anche degli shock, in un certo senso, perché non solo vengono bucati i confini, l'imes romano, nelle zone più periferiche dell'impero, ma addirittura avvengono dei casi clamorosi, come appunto anche uno dei sacchi di Roma, il sacco di Roma del 410, che per i romani nell'epoca, romani intendo abitanti, cittadini e abitanti dell'impero romano, è davvero uno shock, Roma era considerata città eterna, certo aveva perso un po' del suo smalto politico perché erano entrati importanti Milano, Costantinopoli, eccetera, però Roma rappresentava sempre un simbolo, pur sempre un simbolo, la città che era il cuore dell'impero, eppure appunto nel 410 i goti riescono a penetrare Roma, a saccheggiarla, poi se ne vanno ovviamente, ma lasciano una ferita aperta all'interno dell'impero romano, in effetti da lì si capisce che le cose non potranno più essere le stesse, Roma agonizza ancora per qualche decennio con qualche parziale risalita e con qualche poi ricaruta, ma come sapete bene nel 476 dopo Cristo almeno l'impero d'Occidente crolla, crolla definitivamente, poi inizia il Medioevo e così via. Agostino vive questa fase perché Agostino vive nella prima metà del V secolo, anzi inizio del V secolo, e vede, è testimone, è testimone in diretto ovviamente, non è proprio lì a Roma, però viene a sapere di quello che avviene a Roma, e anche per lui questo è uno shock perché Roma in qualche misura era appunto la città imprendibile, la città eterna, la città della forza militare, e vive anche soprattutto il dibattito posteriore al sacco di Roma, perché negli anni immediatamente successivi in molti si iniziano anche angosciosamente, direi, a chiedere com'è potuto accadere, qual è il motivo di questa crisi romana, che ormai è sempre più evidente e il sacco di Roma è solo un caso, ce ne sono anche altri di casi preoccupanti. E alcuni commentatori, soprattutto i commentatori pagani, perché siamo in una fase in cui il cristianesimo si è diffuso, ma convive ancora diffusamente col paganesimo, lo stesso Agostino, ricorderete, vi metto in descrizione la playlist su Agostino con tutti gli altri video che abbiamo fatto su di lui, dicevo, lo stesso Agostino, ricorderete, era originalmente pagano, poi si è convertito, però il padre era pagano, la madre era cristiana, però insomma, inizialmente non è certo un cristiano, quindi il paganesimo prende ancora larghi strati della popolazione, anche intellettuali, anche personaggi di primo piano della scena intellettuale romana sono appunto pagani. E questi pagani iniziano a dire ma, alcuni di questi pagani iniziano a dire ma, secondo noi il motivo della crisi dell'impero romano è da scrivere proprio all'ascesa del cristianesimo, che è diventata religione ufficiale, che è diventata religione principale, e che sta sgomitando, in un certo senso, per proprio mettere in margine il paganesimo. Ebbene, secondo loro, l'adesione a questo culto orientale, il cristianesimo, la perdita dei vecchi valori, dei sacri vecchi valori romani, ha portato a questa crisi, prima ancora che militare e spirituale, a cui consegue una crisi militare, a cui consegue le invasioni, eccetera. Questa tesi preoccupa molto Agostino, che decide, dopo attenta riflessione, di provare a rispondere, perché lui è convinto che non senti nulla il cristianesimo, anzi, che i problemi di Roma siano iniziati prima dell'avvento del cristianesimo, e non sia questo il motivo della caduta, della probabile futura caduta dell'impero romano d'Occidente. Per rispondere proprio a queste critiche, si mette a scrivere un libro che si chiama appunto La Città di Dio, un libro composto tra il 413, quindi proprio poco dopo il sacco di Roma, e il 426, quindi anche una lunga gestazione, in cui però sostanzialmente Agostino contrappone due città, che sono, dall'altro la Città di Dio, la Città Celeste potremmo anche chiamarla, dall'altro la Città Terrena, la Città Terrestre, no? Queste due città rappresentano in un certo senso le controparti dell'uomo, perché l'uomo, avevamo detto nei video precedenti, appunto, in descrizione trovate la playlist, è libero, ma è libero sostanzialmente di cercare i beni maggiori, cioè cercare i beni divini, cioè l'uomo cerca sempre il bene, no? Ma la differenza nel trovare il vero bene e non trovare il vero bene sta nel fatto che alcuni uomini sanno interpretare cos'è il vero bene, e quindi sanno puntare ai beni maggiori, e quindi i beni che avvicinano a Dio, i beni spirituali potremmo dire, no? Alcuni altri uomini non riescono a vedere questi beni superiori e si lasciano incantare ai beni, chiamiamoli inferiori, cioè i beni pratici, materiali, terreni, no? Quindi, nella vita concreta, ogni uomo si trova, in un certo senso, diviso tra una realtà terrena, che è materiale, che è segnata dalla lussuria, dai vizi, eccetera, e una realtà più alta, più spirituale, più divina, che avvicina appunto a Dio. E l'uomo si barca menata a questa scelta, no? Lo stesso Agostino, nella sua vita, lo racconta nelle confessioni ampiamente, aveva iniziato a vivere attaccato ai beni materiali, ai beni concreti, solo dopo aver riuscito, grazie appunto a un percorso, ad avvicinarsi invece ai beni più spirituali, a capire che i beni materiali sono solo l'ombra, o la realtà corrotta di beni più alti, a cui si può accedere, grazie alla spiritualità, grazie alla religione, eccetera, o cercando Dio dentro di sé, e così via. Questa realtà dell'uomo, diviso, un uomo spezzato quasi, tra la terra e il cielo, la troviamo anche appunto a livello di unioni di uomini, cioè di città. Città qua va inteso, non solo come una città singola, ma proprio come comunità, no? Allora, anche nelle comunità, c'è questa dicotomia, potremmo dire questo dualismo, tra una città terrena, dove regna la cupidigia, dove regna l'interesse personale, dove regna l'egoismo, dove regna la sete di potere, e invece una città celeste, più alta, spirituale, dove regna invece la giustizia, dove regna l'amore, dove regna il sacrificio per gli altri, eccetera. Ecco, anche le comunità vivono in questa doppia dimensione. Chiaramente, la città divina, la città celeste, è quella che viene presentata dalla Chiesa, dai Vangeli, eccetera, e quindi quella verso cui l'uomo dovrebbe tenere. La città terrestre è quella che però, a volte, si concretizza, anzi, molto spesso si concretizza nel nostro mondo. Roma è il tipico esempio, secondo Agostino, di città terrena. Ovviamente questa dicotomia di cui abbiamo appena parlato non va intesa in senso troppo rigido, nel senso che lo stesso Agostino ci dice che la città terrena e la città celeste non sono due realtà lontanissime tra loro, anzi, spesso sono frammiste tra loro. Nella vita concreta esistono entrambe fuse in grado di convivere l'una con l'altra. Cioè, se andiamo a vedere le nostre realtà di oggi, quotidiane, i nostri stati, i nostri paesi, le nostre, appunto, città, di cosa ci accorgiamo? Che alcuni nel nostro mondo vivono come se fossero nella città terrena, alcuni altri vivono come se fossero nella città celeste. Cioè, se andiamo a Ippona, che era la città di Agostino, troviamo uomini e donne che vivono, convivono insieme, spalla a spalla, casa di fianco ad altra casa, però alcuni vivono cercando la cupidigia, cercando gli onori, cercando i beni materiali, alcuni altri vivono già una dimensione spirituale. Quindi, le due città sono mescolate tra loro, non è che, voglio dire, la città di Dio si trova solo nell'aldilà, no, si può realizzare anche qui in parte, solo che, spesso, deve fare i conti con anche la città terrestre con cui si mescola, in un certo senso, meglio, certe persone vivono in un modo, certe persone vivono in un altro. Ma al di là di questo, di queste città e di questa convivenza, Agostino vuole anche mostrarci come si sia arrivati a Roma, come Roma, che oggi viene appunto così attaccata, così messa al centro del dibattito politico, sia diventata ciò che è. Perché Roma, Agostino lo sottolinea in maniera anche molto critica, è ormai diventata la Babilonia d'Occidente, così la definisce Agostino. Cioè, una città terrena che ha perso di vista le vere virtù, che si vanta di promuovere le virtù, ma quelle virtù che Roma promuove non sono vere virtù, sono in realtà vizi. Quindi, è una città che ha perso completamente di vista qual è la strada verso la città celeste, che si è legata, anima e corpo, alla corporeità, alla materialità, alla città terrena. Cioè, Roma è proprio la città terrena per eccellenza. Questo serve a dimostrare ad Agostino che le sventure di Roma ovviamente non dipendono dall'avvento del cristianesimo, che anzi ha cercato in qualche modo di salvare Roma o di salvarne lo spirito, quantomeno. No, l'avvento di Roma, la sventura di Roma nasce prima dell'avvento del cristianesimo e continua e non ha nulla a che vedere col cristianesimo. La crisi di Roma è dovuta ai suoi vizi ed è dovuta forse anche al ruolo che Roma ha avuto nella storia. Perché? Perché Agostino, come vi anticipavo già nella premessa, partendo da questo discorso, inizia a ragionare anche a livello di percorso storico. Non c'è solo la realtà delle due città, città di Dio e città terrena, che convivono qui ora, ma c'è proprio una storia dell'impero romano, una storia dell'umanità, ancora più ampia di quella dell'impero romano, che va a ripercorso per capire come si è arrivati fin qua. Guardando ad esempio la storia di Roma, almeno come viene tramandata dalla leggenda, Agostino si accorge che la storia di Roma è molto particolare. In fondo, come è stata fondata Roma secondo la leggenda, da Romolo e Remo, cioè Roma nasce da un fratricidio alla fine dei conti, che ricorda, dice Agostino, il fratricidio raccontato anche all'inizio della Bibbia, quello tra Caino e Abele. Segno che c'è nella storia di Roma un percorso, un percorso che sembra guidato da qualcosa di divino e sono questi i richiami tra la storia romana e la storia biblica, non sono casuali. La grande salita di Roma non è casuale, l'avvento all'interno dell'impero romano del cristianesimo non è casuale, cioè Agostino si rende conto che tutto il percorso storico è segnato da alcune tappe importanti e potremmo dire usando il termine filosofico necessarie, cioè tappe che dovevano avvenire. La storia romana è fatta di alti e bassi, certo, ma questi alti e bassi adesso siamo in una fase di crisi, ovviamente nel 410, 413, 426 siamo in una presante fase di crisi, ma questa fase di crisi non è venuta fuori come una tra le tante possibilità o una tra le tante evenienze che si potevano realizzare nella storia, è emersa come il naturale, una naturale conseguenza di quello che è stato posto prima in essere, come se, e anzi non è un come se, Agostino non è convinto, questa storia fosse guidata da qualcosa di più alto, da qualcosa di più forte che fa fare un percorso, la storia è un percorso e questo qualcosa di più alto, qualcosa di più forte ovviamente è Dio o meglio è la provvidenza divina che guida la storia verso una precisa direzione, in questo senso Agostino si impegna anche a cercare di delineare delle epoche storiche perché se noi guardiamo tutta la storia dell'umanità possiamo individuare proprio delle tappe che l'umanità ha attraversato il percorso per giungere fino a dove è oggi, fino a dove è ora, in particolare Agostino individua sei epoche che secondo lui contraddistinguono le diverse fasi dello sviluppo umano, la prima è quella che va da Adamo e Eva al diluvio universale, chiaramente Agostino si rifà la storia biblica, cioè non siamo in epoche in cui c'è una storia antica approfondita dove ci sono strumenti della storia per andare a capire cosa è stata la pre-storia eccetera, la fonte storica a cui si rifà Agostino è la Bibbia che ovviamente dal punto di vista di fonte storica per noi vale poco perché non è una fonte storica accreditata, però all'epoca la Bibbia per un cristiano era il punto focale e Agostino si rifà la Bibbia, quindi prima epoca storica ad Adamo, primo uomo, fino al diluvio universale, seconda epoca da Noè ovviamente quindi diluvio universale fino ad Abramo, patriarca, poi da terza epoca da Abramo a Davide, il re Davide di Israele, quarta epoca da Davide alla cattività babilonese, quindi Babilonia eccetera, visto che Roma è la nuova Babilonia, quinta epoca dalla cattività babilonese fino alla nascita di Gesù Cristo, sesta e ultima epoca dalla nascita di Gesù Cristo, dall'avvento di Cristo fino alla fine del mondo che arriverà che i cristiani attendono. Quindi sei epoche, chiaramente Agostino ritiene di vivere nella sesta e ultima epoca come tutto l'impero romano da Gesù in poi, ma oltretutto oltre a queste sei epoche si possono individuare secondo Agostino anche tre fasi di sviluppo spirituale perché queste sono le epoche diciamo politiche quasi potremmo dire no, sono quanti assegnate dai grandi uomini della storia ebraica e oggi della storia cristiana ma allo stesso modo anche la nostra spiritualità ha fatto un percorso che Agostino non divide in sei tappe ma in solo tre tappe. La prima tappa era quella in cui gli uomini vivevano senza leggi e vivevano in un certo senso in lotta costante con i beni materiali. Prima tappa. Seconda tappa, seconda fase di sviluppo della spiritualità quando gli uomini vivevano invece sotto la legge hanno iniziato a vivere sotto le legge però finivano anche per essere vinti dai beni materiali non più in lotta ma sconfitti dai beni materiali ed è la fase ovviamente anche della città terrena che si sta vivendo adesso la città romana l'impero romano e così via terza e ultima fase che deve arrivare che la città di Dio in un certo senso preannuncia è il tempo della grazia il tempo in cui finalmente l'uomo sarà liberato dalle tentazioni del mondo sarà liberato dai beni materiali non dovrà più sottostare a questo gioco della cupidigia dei vizi eccetera e sarà finalmente libero di trovare Dio libero di trovare grazie alla grazia la vera e propria libertà la vera e propria felicità la vera e propria benevolenza per gli altri per se stesso per tutto ovviamente tutta questa attenzione al passato alla storia porta Agostino a riflettere anche su cosa sono stati i filosofi che l'hanno preceduto cosa hanno sostenuto i filosofi che l'hanno preceduto in particolare ovviamente i filosofi greci perché dovete pensare che Agostino è uno dei primissimi filosofi cristiani e deve fare i conti con la filosofia per eccellenza all'epoca che dominava anche Roma perché Roma non aveva fatto altro che per lo più riprenderla e commentarla che era la grande filosofia greca quindi Aristotele Platone eccetera in particolare su Platone Agostino e poi sul neoplatonismo fa un'analisi abbastanza interessante noi abbiamo detto come abbiamo presentato Agostino che ci sono pesanti influenze platoniche e neoplatoniche nel suo pensiero in effetti anche analizzando appunto storicamente Platone e Plotino neoplatonici Agostino ha un giudizio che è ambivalente nel senso che non l'atto ne apprezza alcuni rilievi capisce che in loro ci sono concetti importanti che lui stesso ha in parte ripreso poi chiaramente anche in parte modificandoli ma ovviamente rimprovera anche a queste filosofie sostanzialmente di essere filosofie pagane di non aver compreso completamente il cristianesimo Gesù Cristo Dio e così via in particolare su Platone ritiene che il pregio principale della filosofia platonica sia la capacità di cogliere l'aspetto spirituale in fondo Platone ci ha detto la terra il nostro mondo il mondo terreno è un finto mondo è un mondo delle ombre ricordate il mito della caverna sicuramente mi metto a caso mai anche un link in descrizione mentre il vero mondo sta altrove il vero mondo è un mondo spirituale il vero mondo è il mondo per Platone delle idee è il mondo delle sostanze eterne rimutabili e perfette bene questo in effetti convince molto anche Agostino anche Agostino la pensa alla stessa maniera il nostro mondo è un mondo di passaggio il nostro mondo è un mondo di beni materiali che sono solo l'ombra delle cose che sono solo delle illusioni che sono solo delle distrazioni anche potremmo dire nel cammino verso la verità il vero mondo è altrove il vero mondo è quello divino come abbiamo visto prima le due città non sono altro che un ulteriore esempio di platonismo ci dire che c'è una città terrena che è serie dei vizi delle imperfezioni e c'è una città celeste che è la spiritualità che ci eleva è un tipico discorso platonico su questo non ci piove e lo stesso Agostino se ne rende ben conto qual è il limite di Platone che Platone nonostante questa attenzione allo spirituale non ha accolto ovviamente non ha conosciuto la vera religione è stato politeista non ha creduto nel dio cristiano non ha conosciuto Cristo che poi è venuto tra l'altro anche dopo ovviamente Platone e quindi per forza di cose il suo messaggio è limitato Agostino avanza questo sospetto che però questi aspetti interessanti della filosofia platonica possono essere figli dei contatti che Platone forse aveva avuto con l'Oriente quindi porassi anche che Platone avesse conosciuto la religione ebraica i testi sacri dell'antico testamento che ovviamente già erano stati scritti all'epoca di Platone in larga misura non proprio tutti ma quasi tutti e questo potrebbe avergli ispirato questa dimensione più spirituale però ovviamente Platone in sé per sé non porta alla verità completa il neoplatonismo che arriva dopo ovviamente arriva già in epoca diciamo cristiana perché Cristo c'è già stato e almeno per alcuni per molti neoplatonici conoscono anche il cristianesimo e dibattono col cristianesimo lo stesso ricordate Agostino conosce il neoplatonismo rimane influenzato dalle neadi di Plotino ebbene il neoplatonismo anche qui abbiamo un'ambivalenza perché da un lato il neoplatonismo accolto riprendendo i concetti platonici il ruolo del logos ricordate che il neoplatonismo appunto parla di un dio che è uno un dio che non è definibile si può definire solo tramite una teologia negativa eccetera ma poi ha tutte le sue ipostasi e lì nell'ipostasi il neoplatonismo casomai vi metto un link in descrizione se volete andarvela a recuperare perché adesso non possiamo approfondire più di tanto nell'ipostasi coglie in un certo senso il ruolo del logos del verbo di quello che nel Vangelo di Giovanni viene chiamato il verbo cioè Gesù Cristo solo che pur cogliendo questo ruolo importante non capisce e non è stato in grado di capire che il logos si è fatto carne che il verbo si è fatto carne cioè è diventato Gesù Cristo si è incarnato è sceso sulla terra in un preciso momento storico e è entrato a contatto con gli uomini ed è morto ed è risorto per gli uomini ecco manca un aspetto fondamentale del cristianesimo ovviamente senza questo non si può accettare dice Agostino l'insegnamento neoplatonico se ne può apprezzare se ne possono apprezzare alcuni elementi quello sì perché anche neoplatonismo in effetti ha in un certo senso colto l'esistenza di una città celeste potremmo anche dirla così solo che non ci ha dice Agostino indicato la strada per arrivare a quella città celeste la strada è quella di passare attraverso Gesù è quella di passare attraverso Cristo è quella di passare attraverso il logos quindi bene per alcuni aspetti male per altri e d'altronde ovviamente non si potrebbero accettare filosofie pagane tucur però faccio notare una cosa queste analisi che Agostino fa sui filosofi precedenti sono tutto così anche approfondite così anche storicizzate sono in un certo senso una novità nel senso che certo nella filosofia greca si discuteva tra filosofi ogni scuola poteva criticare la filosofia precedente Agostino cioè scusate Aristotele criticava Platone era stato suo allievo Platone li prendeva Socrate era stato suo allievo eccetera quindi c'erano sicuramente confronti e critiche anche a volte o apprezzamenti tra scuole filosofiche diverse ma questi confronti raramente avevano un senso della storia vedete che Agostino sta cercando di fare anche in un certo senso una storia della filosofia in parte in quest'analisi e stava cercando di fare come ho detto prima anche una storia dell'epoche umane dello sviluppo umano del cambiamento umano del proprio percorso spirituale e terreno umano questa è una novità perché perché nel mondo greco e se ci pensate a tutti i filosofi che abbiamo visto nel mondo greco quasi tutti danno rarissime eccezioni l'idea della storia era un'idea ancora molto molto vaga o meglio non esisteva una vera e propria idea della storia perché questo perché l'impressione che emerge da tutti i filosofi ma anche dalla cultura greca in generale è quella di un tempo sostanzialmente ciclico cioè un tempo che tende a ripetersi pensate agli storici che proprio parlano esplicitamente di un eterno ritorno ma pensate anche ad altri filosofi che so mi viene in mente Empedocle giusto per fare un esempio anche banale che vedeva la storia proprio come un percorso tra l'epoca del trionfo dell'odio l'epoca del trionfo dell'amore e poi via ancora via andare continuamente eventi che si ripetono tutta la storia tende a ripetersi o direttamente perché proprio gli eventi si ripetono fisicamente o perché più o meno si sta sempre fermi lì no? non c'era un'idea del cambiamento nella storia non c'era un'idea del progresso e questo è un po' figlio anche della cultura greca se ci pensate la cultura greca non ha un passato particolare da recuperare e non ha neanche una prospettiva futura particolare a cui tendere no? si vive in un eterno presente verrebbe da dire quindi anche il confronto filosofico anche il confronto storico non è mai storicizzato non è mai visto come c'è quella filosofia di due secoli fa noi abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto a quella filosofia no, quella filosofia di due secoli fa è ancora oggi presente è come se fosse nuova non c'è un'idea del percorso storico ok? se non in rare eccezioni Agostino è il primo importante filosofo che introduce invece un'idea precisa e profonda della storia quello che è avvenuto è avvenuto e è diverso da quello che sta avvenendo oggi ed è diverso da quello che verrà domani cioè alla visione ciclica circolare potremmo dire della storia tipica dei greci Agostino inizia a contemplare una visione si dice lineare della storia cioè la storia non è un cerchio dove alla fine continua a girare in tondo e rimani sempre lì e ripeti gli eventi no la storia è una linea una retta potremmo dire o meglio un segmento perché non è una retta perché non è infinita c'è un inizio e c'è una fine per Agostino l'inizio è la creazione abbiamo detto prima tutto inizia con Adamo quindi la creazione del mondo da parte di Dio e c'è una fine la fine è quando Dio arriverà e giudicherà no la fine del mondo la fine dei tempi quindi è una linea è un segmento con un inizio e una fine ma niente si ripete Gesù Cristo è arrivato sulla terra certo ma è arrivato una volta sola e non arriverà più Gesù Cristo non ritorna almeno non fisicamente come è avvenuto certo continua a parlare agli uomini quello che volete ma quell'evento è stato un evento unico la morte e risurrezione di Cristo è stato un evento unico e tutto quello che avviene è un evento unico la nostra vita su questa terra è unica no poi c'è una dimissione l'unità terrena dove la nostra vita sarà eterna se tutto va bene ma gli eventi non si ripetono quindi sono importanti una volta sola Gesù è arrivato una volta sola per questo è così importante la sua venuta la creazione del mondo è venuta una volta sola per questo è così importante quelle sei epoche che abbiamo visto da da Adamo a Noè da Noè ad Abramo da Abramo a Davide e così via sono venute una volta sola è una visione nuova è una visione nuova che dà grande peso al cambiamento al divenire no cioè Agostino si rende conto che non c'è sempre un eterno presente ma il passato è diverso dal presente e passati diversi sono diversi dal presente Platone ha sbagliato perché è vissuto nel passato e non poteva o non ha saputo cogliere quello che oggi invece cogliamo meglio e quello che magari un domani coglieremo ancora meglio c'è uno sviluppo non si può parlare tanto di progresso perché in realtà lo schema è uno schema diciamo di cadute e redenzioni lo schema classico è l'Eden la creazione quando Adamo e Eva erano il giardino dell'Eden la caduta perché c'è il peccato originale che ci fa cadere precipitare e poi la redenzione che parte da Cristo e porta il nostro cammino verso la città di Dio quindi non è un costante miglioramento ci sono cadute e ripartenze ma c'è un percorso la storia è un percorso non è uno stare fermi è un camminare e questo percorso come vi anticipavo prima non è un percorso casuale non è un percorso così contingente per cui io vado di qua tu vai di là ognuno va dove gli pare ogni paese va in una certa direzione diversa e così via no tutta la storia dell'umanità è unica quindi c'è un'unica grande linea della storia e questa storia va avanti secondo un progetto che è il progetto di Dio è il progetto della provvidenza l'impero romano ha avuto un ruolo nella storia certo e adesso è in crisi ok è evidente che sia così ma questo è perché la provvidenza divina fa sì che l'umanità cammini in una certa direzione è Dio che guida la storia tramite la provvidenza e quindi il percorso è tracciato noi siamo all'interno di questo percorso magari non sappiamo bene cosa accadrà ma quello che accadrà Dio già lo sa ovviamente è un percorso già deciso già tracciato in cui quello che conta è anche il cambiamento l'oggi è diverso dallo ieri ed è diverso dal domani questo e su questo concludiamo è forse l'ascrito più interessante della città di Dio certo poi è un libro che ha una dimensione spirituale ovviamente ma dal punto di vista filosofico propriamente detto questa creazione potremmo proprio dire così della filosofia della storia è importantissima la filosofia della storia è proprio quella filosofia che tenta di capire la legge della storia se c'è se non c'è e ovviamente se questa legge ha un senso se questa legge ha una direzione se questa legge è guidata o è casuale o è meccanica eccetera e eventualmente qual è il senso qual è l'obiettivo finale di questa storia questa tesi che in Angostino è forte che ovviamente si lega al suo cristianesimo pesantemente ha influenzato da qui in poi tutta la cultura occidentale cioè l'idea del tempo che noi abbiamo anche noi uomini e donne laici del ventunesimo secolo che magari alcuni di voi probabilmente si sentiranno molto distanti da Agostino magari siete anche atei o non credete sicuramente nel cristianesimo c'è alcuni sì alcuni no ma anche quelli che non credono nel cristianesimo in fondo hanno la visione della storia che è di Agostino pensiamoci bene non abbiamo la visione della storia dei greci raramente noi nel nostro sentire comune pensiamo come i greci a un tempo ciclico molto molto più spesso poi siamo un tempo lineare un tempo in cui gli eventi avvengono una volta sola un tempo in cui il futuro si mangia il passato un tempo in cui c'è una direzione e questa visione della storia è di Agostino di Agostino che poi l'ha desunta dai Vangeli dalla Bibbia dalla riflessione su Dio certo tutto quello che volete ma sostanzialmente lui è da averla delineata in questa maniera per dire come Agostino abbia avuto un influsso pesantissimo come dicevo anche all'inizio non solo sui filosofi cristiani ma anche sui filosofi laici nel diciannovesimo secolo nell'ottocento noi troveremo in parte l'abbiamo già visti mi metto magari anche dei link in descrizione alcuni importantissimi filosofi della storia e forse il più importante di tutti è Hegel filosofo certo non cristiano lei è un panteista sostanzialmente esponente importante dell'idealismo tedesco ecco Hegel quando parla di storia parla di una storia laica perché non è il Dio cristiano guidare la storia è cosomai l'assoluto che però è qualcos'altro rispetto al Dio cristiano ma questa visione viene spesso definita una visione provvidenzialistica e quando si dice provvidenzialistica si intende dire che c'è una sorta di forza superiore che può essere la provvidenza con il più maiuscolo può essere un'altra forza simile alla provvidenza cristiana che guida la storia che la fa procedere in un certo modo che va in una certa direzione tra l'altro quello schema che vi dicevo Eden caduta peccato originale redenzione quindi una situazione di benessere iniziale una situazione di peccato caduta proprio disastro e una ripresa una risalita un superamento del disastro richiama fortissimamente la teoria dialettica hegeliana vi metto anche qui un link in descrizione Hegel un po' figlio anche lui di questa visione ecco Hegel sicuramente deve molto Agostino certo tende a laicizzare la visione di Agostino ma la visione della storia è quella Marx vi dicevo è figlio in parte di Hegel critica anche Hegel per alcune visioni della storia importanti anche sulla teoria hegeliana però anche in Marx si sente un po' l'eco molto laico molto materialista ma si sente un po' l'eco di questa visione della storia come un percorso anche Marx divide la storia in epoche anche Marx dice ogni epoca storica ha una sua fase e c'è uno sviluppo e c'è un obiettivo e c'è una fine della storia come Agostino indica la fine del mondo quando fine dei tempi quando Gesù ritornerà per il giudizio universale sulla terra così Marx sembra indicare una fine della storia quando ti rinunferà il socialismo ed è una visione providenzialistica anche questa in qualche misura poi con differenza non voglio neanche dire che è proprio uguale ci sono molti distingue da poter fare però l'impianto generale del modo di pensare alla storia è quello ma potremmo citare anche il positivismo pensate a Comte vi metto un link in descrizione anche Comte cerca una legge della storia dice la storia è ordine e progresso e cerca di delineare come questa storia si evolve in una direzione in fondo direi che quasi tutta la filosofia della storia dell'Ottocento è figlia di Agostino e quella ha plasmato la nostra idea di storia insomma per dire quanto sia importante questa quanto sia stata anche fortunata questa visione di Agostino e direi che abbiamo detto tutto ecco infatti questo era quello che oggi secondo me c'era da raccontare e spiegare per concludere il discorso su Agostino vi ricordo che ad Agostino abbiamo dedicato già tanti altri video in descrizione c'è la playlist con tutti gli altri dedicati più a rispetti filosofici puri altri titoli che sono comparsi qui mentre spiegavo trovate il link a tutti i video che ho citato e trovate anche i modi per rimanere in contatto col canale se vi interessa sapere quando escono i video quando escono i podcast e altre iniziative sui social network e c'è soprattutto la newsletter gratuita e settimanale che vi consiglio veramente una mail che mi hanno una volta a settimana gratis dove faccio il punto di tante cose do consigli anche di lettura film è molto corposa in più vi ricordo anche che in descrizione trovate i modi per sostenere questo progetto di questo canale ci sono più di mille video sul canale credo ormai 1300 o più di lì come potete ben capire è un progetto impegnativo e proprio anche di fatica ma anche finanziariamente per i libri per il materiale per le fotocamere e così via se volete darmi una mano a realizzarlo sempre meglio potete sostenere tutto questo tramite appunto o donazioni o meglio ancora l'abbonamento al canale youtube a modo in cui per pochi euro al mese ricette voi poi la taglia e sono vari pacchetti potete dare un piccolo sostegno concreto ma in cambio ricevete anche dei vantaggi perché diramo mensilmente dispense di filosofia agli abbonati a seconda del pacchetto che scegliete anche dispense di storie ultimamente faccio delle dirette riservate facciamo anche degli incontri online un paio di volte al mese per discutere di temi filosofici storici eccetera libri e così via c'è una chat riservata per gli abbonati per discutere di argomenti insomma c'è davvero tanto tanto materiale quindi se siete interessati poi usufruite di quello che vi va ovviamente c'è modo tramite appunto l'abbonamento guardateci un'occhiata ho detto tutto ci sentiamo presto per altri video di filosofia storia ed educazione civica ciao ciao